Buonasera a tutti voi che avete deciso di raccogliere l'invito che vi è stato rivolto e avete quindi raggiunto Piazza Caduti per la Libertà e buonasera a tutti coloro che ci seguono da casa grazie alla diretta social. Questa sera la città di Bra, come ogni comune d'Italia, ricorda e solennizza la giornata della memoria che è istituita alcuni anni fa allo scopo di preservare e di perpetuare la memoria di quei tragici fatti, il sacrificio di milioni e milioni di persone. Stiamo parlando dei sei milioni di ebrei, donne, uomini, anziani, ragazzi che furono travolti dalla lucida follia nazista e dalla macchina di morte che fu voluta e resa operativa in quegli anni tremendi. E con loro ricordiamo chi condivise la stella gialla che nasceva dalla volontà folle di eliminare. Dunque la diversità ebraica simbolizzata dalla stella gialla fu accompagnata da altre diversità e da altre stelle. La diversità degli oppositori politici con la stella rossa, la diversità dei testimoni di Geova con la stella viola, la diversità degli omosessuali con la stella rosa, la diversità ancora delle prostitute, dei senza tetto, dei vagabondi con la stella nera. Tutte diversità, tutte specificità che non potevano essere tollerate, che bisognava sradicare. Questo si pensava allora e vorremmo tanto che quel pensiero fosse confinato nel passato e talvolta abbiamo la pensiero che forse deve indurci a fare qualche pensiero profondo e ad avere piena consapevolezza delle nostre azioni. Anche la nostra città ebbe i suoi sommersi ebbe i suoi salvati. Anche la nostra città ha conosciuto atti di generosità, di coraggio, talvolta di aperto eroismo che hanno consentito la salvezza di alcuni, storie che peraltro purtroppo fanno il paio con altre che invece sono state impostate in altro modo, caratterizzate da eroismo, da chiusura, da cinismo, talvolta di eroismo che ebbe conseguenze tragiche. Noi vogliamo ricordare una storia di salvezza e una storia di dannazione. Una donna che era nata a pochi chilometri da qui, nel comune di Rivalta, anzi in frazione del comune di Rivalta di Lamorra e che operava presso l'asilo di San Giovanni e che non ebbe alcuna esitazione nell'autunno del 1943 a ospitare con tutti i rischi del caso una numerosa famiglia di ebrei jugoslavi che era giunta nella nostra città e che si trovava in imminente pericolo di vita. Dapprima ospitandola nei locali dell'asilo della parrocchia di San Giovanni e poi quando quell'ospitalità non fu più possibile decidendo con l'aiuto della famiglia di ospitarla direttamente a casa propria nella cascina di famiglia dove questa famiglia visse per l'anno e mezzo che seguì e poté vedere la liberazione, poté quindi sopravvivere a un'altra, molto nota, di tutt'altro segno. Un allora ragazzo nato sul finire dell'Ottocento nella lontana Ungheria che si trovò negli anni tremendi di quell'inutile strage che fu la prima guerra mondiale a combattere sul fronte italiano, fu catturato, destinato come era uso allora al lavoro coatto nelle province italiane, arrivò in provincia di Cuneo avendo qualche abilità meccanica fu immediatamente indotto, dovremmo dire più correttamente, costretto a lavorare da prima presso le cartiere della Burgo a Verzolo, poi presso le officine ferroviarie a Savigliano e infine prese la strada che lo portò nella nostra città unitamente alla donna che aveva incontrato e che sarebbe diventata sua moglie, Margherita Asteggiano, la donna che gli diede la prima e unica figlia, Anna Maura. Si trasferì la famiglia Ballogo qui in città, la famigerata 1938 quando anche l'Italia si macchiò della vergogna delle leggi razziali volute da argime fascista e controfirmate dal re, quelle leggi razziali che avviarono la politica di discriminazione prima, di separazione poi, destinata a fare un tragico salto di qualità quando tutta l'Italia settentronale, dunque anche la nostra città, fu occupata dai nazisti nell'ottobre 1943 e si passò dunque all'internamento prima, alla deportazione e infine alla eliminazione fisica. E così la famiglia Ballog, non ritenendosi più al sicuro nella nostra città, prese la strada delle montagne, chiese, ottenne la protezione delle formazioni partigiane, per sei mesi riuscì a vivere alla macchia e poi a causa di la vita perché portano la morte, a causa di una delazione l'intero nucleo familiare fu arrestato, dapprima tradotto al carcere di Venasca, poi a quello di Curio, infine a Torino e da Torino partì il viaggio che portò i coniugi Ballog, anzi la famiglia Ballog, a Fossoli, uno dei campi di transito allestito in Italia. Quando Fossoli fu chiuso, nell'agosto del 1944, sotto la pressione degli alleati che risalivano la penisola, la famiglia Ballog fu smembrata, i tre componenti della famiglia furono mandati in campi di concentramento diversi. Margherita Steggiano, la moglie, fu mandata a Bergen-Belsen, nella figlia, Anna Maura, fu mandata a Ravensbruck e ad Alberto Ballog fu destinato ad Auschwitz, il più noto dei campi di sterminio allestiti dalla macchina nazista in Europa. Come noto, Auschwitz fu liberata dalle truppe dell'Armata Rossa il 27 di gennaio del 1945, la giornata della memoria. Ebbene, il nostro non ebbe la fortuna di arrivare nel 1945, morì qualche giorno prima, in quei giorni in cui coloro che sino a quel momento avevano retto il campo, di fronte all'ormai evidente impossibilità di difendere il campo, decisero di spostarsi verso ovest, verso Berlino, verso l'ultima ridotta tedesca, e costrinsero i prigionieri che ancora si reggevano in piedi, nonostante giornate, settimane, mesi di malnutrizione, di fame, di sevizie, a seguirli in questa marcia. Una marcia detta della morte, perché rappresentò la morte per la maggior parte di coloro che furono costretti a prendervi parte, e tra coloro che presero parte a quella marcia fino a quando quella marcia fu forzatamente interrotta dal giungere dell'ultimo momento. Credo che la memoria sia il dovere che ognuno di noi deve caricarsi come un fardello sullo zaino che portiamo sulle spalle, perché questo è il dovere, il dovere al quale non ci possiamo né ci vogliamo sottrarre. Abbiamo raccontato due storie, una di vita, una che invece si è conclusa tragicamente, due storie che parlano di un'epoca lontana, ma un'epoca lontana in cui gli ecchi arrivano sino a noi, e se il nostro Adalberto Ballo fosse ancora tra di noi, probabilmente farebbe sue le parole di un uomo che passò per Auschwitz e che diventò uno dei più dolenti testimoni di quella vicenda, Primo Levi, che raccomandava a tutti, e in primo luogo alle generazioni che non avevano vissuto quella tragedia, di essere cittadini normali, nel futuro gli errori del passato. Questa è la ragione, la motivazione e lo stimolo che hanno spinto l'amministrazione cittadina di Bra, come di tutte le altre realtà italiane, a istituire, o per meglio dire, a onorare questa giornata. Io qui mi fermo perché ad attualizzare il senso di questa giornata sarà ora il nostro sindaco Gianni Fogliato, cui cedo immediatamente la parola. Grazie al nostro Presidente del Consiglio, grazie a voi per la vostra presenza, grazie a chi è collegato. Credo che quando un avvenimento è importante, quando è importante ricordare. Riteniamo importante attualizzare, rendere contemporaneo ciò che è accaduto. Riteniamo importante riflettere personalmente, ma anche come città. Soprattutto far sì che ognuno di noi possa essere una specie di sentinella rispetto al rischio del sonno dell'indifferenza che purtroppo abbiamo presente anche nella nostra Italia. Saranno le mie delle brevi riflessioni. Ecco, parto da quando è stata deliberata la giornata della memoria. La giornata della memoria è stata deliberata con una legge del 20 luglio 2000. Bene, è stata deliberata l'unanimità. Credo che è giusto. Ci si divide per quello che ognuno di noi pensa come possa essere organizzata una società, condotta un governo. Ma non ci si può dividere. Anche di persone ai confini dell'Europa di fronte a uno spilo ospidato, oppure, per chi ha visto il Tg negli ultimi giorni, persone sempre ai confini dell'Europa ancora morte di ipotermia. hanno il dovere di sensibilizzare i giovani. E noi a Bra, finché abbiamo potuto, abbiamo cercato sempre di agevolare il viaggio al campo di concentramento di Auschwitz e di Birkenau. e quando la pandemia non ce l'ha reso possibile, anche quest'anno ci sarà un collegamento per le scuole superiori. Ma soprattutto tramite un progetto educativo far sì che questi avvenimenti non abbiano a ripetersi. Vedete, quest'anno come amministrazione abbiamo regalato alla quarta, quinta elementare, la prima, seconda e terza media, sono le età che compongono il Consiglio Comunale dei Ragazzi, questo quaderno. Cittadini si diventa. È un quaderno, di cui anche Bra fa parte. Bene, nel quaderno sono riportate due citazioni. La prima di Albert Einstein, il mondo non è minacciato dalle persone che fanno il male, ma da quelle che lo tollerano. E l'altra di Martin Luther King, non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti. E subito dopo, non ci si svegliò una mattina con i forni crematori in funzione, ma ben prima vi era un odio latente e ingiustificato. Ho parlato della scuola, credo che sia importantissimo lavorare con i giovani e lavorare nella scuola. Ho provato a cercare in questi giorni di fare un'altra scuola. La prima, perché? Uno diceva, se fossi stato un ragazzo durante il nazismo, avrei detto ogni giorno perché. Perché esistono le distinzioni razziali. Perché non possiamo essere uguali e in pace. In fondo, perché è una parola che insinua un dubbio nelle persone. Pogniamocela. La seconda, ricordiamo. Oggi certamente ricordiamo soprattutto ricordiamoci di ricordare. La terza, vissuto. Diceva un giovane, senza la storia non si capisce il presente. È importante puntare la cinepresa sul nostro vissuto attuale e chiederci a certi comportamenti di oggi. E l'ultima, missione. C'è la missione di educare i giovani, in particolare i giovani, ma tutti, alla riflessione e alla scelta. E vi consiglio, è veramente bello perché si riferisce a una storia vera. Un film che è uscito nel 2014 e si riferisce a una storia vera avvenuta nel 2009. Il titolo è Una volta nella vita. Un insegnante guida una classe multiculturale, litigiosa, indisciplinata verso la scoperta del valore della civiltà e della memoria. Partecipano a un concorso sulla resistenza e deportazione, con una ricerca sulle giovani vittime della Shoah. I ragazzi sviluppano sensibilità verso l'accettazione dell'altro. Contro, ma di crescita personale. Vedete, mi veniva da riflettere che Auschwitz è stata costruita da degli europei. Auschwitz è figlio della nostra storia. E, pensando all'Europa, mi veniva in mente la bella figura del Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, recentemente scomparso. Bene, mi ha sempre incuriosito il fatto, avete visto, che è stata messa una rosa bianca nei banchi durante la commemorazione. Lui aveva come riferimento il gruppo della rosa bianca. Era un gruppo di giovani, giovani tedeschi, poco più che ventenni, uccisi dai nazisti, anzi ghigliottinati dai nazisti, perché non violenta al nazismo. È una realtà che conoscevo poco. È anche scoperto il perché qui vicino, a Saluzzo, vi è una scuola dedicata, proprio intitolata, alla rosa bianca. Bene, di Davide Sassoli vorrei riprendervi solo velocemente quattro brevissime riflessioni. Lui riprendeva nei suoi interventi la citazione di Primo Levi. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. E poi il fatto che ci ricamava all'agire insieme e proteggere la nostra coesione. In fondo, la coesione dell'Europa ha creato per tutti noi tanti anni di esperienza di pace, che ha favorito anche il benessere di ricci. Dopo ci ricamava attenzione all'attività, nel momento in cui si idealizza l'identità pura, vuoi religiosa, etnica, culturale, quello è un attacco ai valori dell'Europa. E in ultimo, quanto ci esortava a pensare a noi stessi come all'altro, pensare a se stesso come un altro. L'altro, certamente oggi, l'abbiamo visto in tante immagini o nei film, il fatto di persone scheletrite dei campi di concentramento. Ma l'altro sono anche le persone che bussano all'Europa, che vogliono con noi creare una storia dell'Europa, una nuova storia dell'Europa. E chiudo riferendo a un fatto personale. Ho avuto un po' di giunta nel 2012 di accompagnare gli studenti delle superiori alla visita ai campi di Auschwitz e Birkenau, proprio nel mese di gennaio, in questo periodo. E ho avuto l'onore di essere scelto a leggere, nella versione italiana, viene letto sui binari di Birkenau una commemorazione. E come rappresentante dei comuni italiani hanno scelto me e l'ho letto insieme a tanti altri colleghi rappresentanti altri comuni dell'Europa. Era una giornata freddissima e avevamo davanti a noi tutta la distesa dei binari. Ecco, quello mi ha fatto ricordare e me lo fa ricordare... ...città di un viaggio comune, come... ...di un viaggio comune che la città di Brà vuole partecipare. Grazie. Cedo ora la parola a Don Giorgio Garone, che ringrazio per la presenza. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Partecipo molto volentieri a questa commemorazione per portare un piccolo contributo nello zaino della memoria e portare la fatica dello zaino della memoria, come ci ricordava Fabio, e anche il dovere di rimanere sentinelle, attente. Allora ho pensato di offrire... ...a 29 anni nel campo... Viaggiava in uno di questi treni della morte, in maniera molto casuale ha buttato il suo diario fuori dal treno ed è stato praticamente miracolosamente ritrovato questo diario, ricomposto, e ci offre una testimonianza straordinaria che penso aiuti ad alimentare veramente la memoria non solo di queste vittime e non solo della loro sconfitta, ma anche della vittoria che hanno riportato. Nel caso di Etti si tratta di una persona che è stata capace di vivere una resistenza di tipo particolare, non sulle montagne, imbracciando un fucile perché non era nelle sue possibilità, ma una resistenza dentro, non ha mai smesso di essere se stessa. E tra le pagine più toccanti del suo diario si trova quella che ha composto un anno prima di trovare la morte e anche di vivere la deportazione. da sottolineare anche il fatto che, essendo un intellettuale, aveva anche la possibilità forse di evitare il campo di sterminio, ma ha voluto condividere fino in fondo la sorte di tutti gli altri. Il 12 luglio del 1942, poco meno di un anno prima di trovare la morte, ha composto quella che lei stessa ha intitolato Preghiera della Domenica, Scriveva così Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa. Cercherò di non appesantire l'oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani, ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti da noi, la tua responsabilità. Più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza. Tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. E altre persone che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze. Vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. Dicono, me non mi prenderanno. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Per il dolore, grande ed eroico, ho abbastanza forza, ma sono piuttosto le mille preoccupazioni di tanti parassiti. Beh, allora mi grazie, per oggi sei a posto. Le pareti protettive di una casa ospitale ti scivolano sulle spalle come un abito che hai portato spesso e che ti è diventato familiare. Anche di cibo ce n'è a sufficienza per oggi. E il tuo letto con le sue bianche lenzuole e le sue calde coperte è ancora lì pronto per la notte. Usa e impiega bene ogni minuto di questa giornata e rendila fruttuosa. Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalle tempeste di questi ultimi giorni. I suoi fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghere scure melmose che si sono formate sul tetto basso del garage. Ma da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire, indisturbato, esuberante e tenero come sempre. Espande il suo profumo tutto intorno alla tua casa. Mio Dio, vedi come ti tratto bene. Non ti porto soltanto le mie lacrime, le mie paure, ma ti porto persino in questa domenica mattina grigia e tempestosa, un gelsomino profumato. Ti porterò ovunque tutti i fiori che incontro sul mio cammino. E sono veramente tanti. Voglio che tu stia bene con me. Non posso garantirti niente a priori, ma le mie intenzioni sono ottime. E ora mi dedico a questa giornata. Mi troverò fra molta gente. Le tristi voci e le minacce mi assedieranno di nuovo, come altrettanti soldati nemici assediano una fortezza impendibile. grazie. Ancora grazie a tutti voi per aver partecipato, a tutti voi che avete deciso di uscire dalle voce. con tutti noi. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito dalle loro case. La manifestazione prosegue, perché questa è soltanto una delle iniziative collegate al programma Giornata della Memoria, curato dalla città di Brando. Dunque ora ci si sposterà presso il Cinema Cittadino, dove andremo a concludere questa giornata con l'ultima delle proiezioni su questo tema così dolente che continua a interrogarci e continua a parlarci. Buona serata a tutti.